Eccoci qui con le nostre pillole di vita e di speranza. Oggi incontriamo Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Quindi un altro fronte di questo periodo difficile, che si combatte naturalmente negli ospedali, ma si combatte per strade, si combatte ovunque, è anche a Palazzo Giustizia, dove esattamente come altrove c'è questa emergenza, dove nonostante l'emergenza il lavoro va avanti, il lavoro dei magistrati, magistrati che a Milano hanno anche pagato tutto questo sulla propria pelle. Presidente. Certo, è proprio così. L'emergenza Covid ha fatto venire fuori per quello che riguarda la giustizia ha l'esigenza di fare giustizia più in fretta, più velocemente in alcuni settori. Il Tribunale di Sorveglianza è uno tra questi, perché è un settore che si occupa della giustizia nell'esecuzione della pena e quindi che deve dare le risposte giuste e immediate al carcere. Per cui questa emergenza ha decuplicato, centuplicato, non so quantificare, il lavoro che ordinariamente si svolge. Per noi non si è fermato niente, al contrario si è moltiplicato a dismisura il lavoro da fare e in fretta, perché ogni giorno può essere utile per evitare un pericolo, un contagio, una situazione, un dramma. Ma ecco, questa è la situazione. Esatto, quindi è andato avanti, perché fermare il Tribunale di Sorveglianza cosa vuol dire? Fermare il Tribunale di Sorveglianza vuol dire non dare più risposta alle richieste di liberazione che dal carcere arrivano, dai detenuti che stanno espiando la pena che sono nei termini per avere le misure alternative o che stanno male e per cui le loro condizioni di salute sono diventate incompatibili con la detenzione, per far sì che in sostanza il carcere ritorni alla sua natura originaria, che è quella di estrema razio, cioè dire di soluzione indefettibile solo nei casi nei quali così si deve fare. Quindi per noi ha significato, e questo significa, dare risposte per esigenze di libertà, per gli spazi di libertà. È una funzione che lavora esclusivamente sulla libertà delle persone. Libertà delle persone e attaccamento a quello che è il carcere. Sappiamo tutti benissimo quanto la Presidente di Tribunale di Sorveglianza ci tenga al carcere e alle condizioni in cui operano gli operatori e in cui stanno i detenuti. Purtroppo siamo passati anche dalla rivolta, quindi da un momento anche difficile, tragico, eppure questa attenzione non è mai mancata e anzi nelle tue parole, come nei tuoi gesti, si capisce questo. Non può mancare assolutamente, perché non può mancare l'attenzione da parte dell'istituzione nei confronti dello Stato. Quando lo Stato decide di prendere in carico una persona, arrestandola, in quello stesso momento prende in carico tutta la persona complessivamente com'è. La persona è fatta di esigenze, di diritti, il primo dei quali è il diritto alla salute in questi tempi di Covid e quindi non può che essere una risposta all'altezza della responsabilità che si ha nel momento in cui si gestisce la vita di quella persona, che dipende dalla penna, dalla firma di un magistrato per poter essere trattata come giustizia vuole. Il Tribunale di Sorveglianza fa giustizia di prossimità, se così vogliamo dire, forse è una delle ultime frontiere rimaste ed è il volto della giustizia buono, è quello che restituisce, non è quello che taglia, non è la spada che taglia insieme alla bilancia e il ricucire in sicurezza, con l'attenzione alle vittime, con tutto quello che la funzione della rieducazione della pena comporta, ma è dare speranza e la speranza non può essere tradita, tanto più in un momento in cui il Covid è diventato questo nemico invisibile dal quale nessuno si può guardare che è quasi peggio di un terremoto, peggio di un evento materiale rispetto al quale c'è un prima e un dopo. Qui non riusciamo a capire da che cosa ci dobbiamo guardare. Figuriamoci in un ambiente come il carcere, che è un ambiente fatto di obblighi, di restrizioni, di cancelli, di doveri, di rispetti di regole, regole che però lo Stato deve a sua volta rispettare. E quindi è questo il punto. Grazie. Io questo l'abbiamo visto come servitore dello Stato, come te e come gli altri tuoi colleghi e come gli operatori della cancelleria che sono insieme a te e siete passati anche da un'altra tragedia, cioè quindi l'incendio che c'è stato settimana scorsa, eppure vedere lunedì stesso, cioè la cosa che è successa sabato notte, lunedì, e di nuovo al lavoro per fare quello che appunto adesso hai descritto, per riattivare quest'ultima frontiera. Questo da un lato riempie molto di speranza, seppure si vede questa fatica enorme che affronta anche situazioni incredibili come questa. È proprio così. Il dovere, ripeto, è quello di dare continuità, perché in carcere la vita non si ferma, non si ferma mai, non si ferma la domenica, non si ferma il giorno di Natale, non si ferma il giorno dell'incendio del Tribunale di Sorveglianza. È sembrato che si fermasse il giorno delle rivolte, questo sì, perché le rivolte sono state un momento dolorosissimo e certamente da non condividere e da non giustificare, ma in un contesto di fortissimo sovraffollamento. Non dimentichiamo che le carceri lombarde sono le più sovraffollate d'Italia e non dimentichiamo che il maggior numero di detenuti presenti rispetto a tutta l'Italia è proprio a Milano, nelle carceri di Milano. Quindi abbiamo questo doppio primato del quale dobbiamo essere all'altezza. E quindi non poteva che essere così. Il sabato e la domenica dell'incendio sono stati dedicati a ripristinare queste poche postazioni, in quest'aula di giustizia, che è una sorta di open space, è un tribunale di sorveglianza da campo, quello che c'è adesso. Quello che si dipana su tre lunghissimi corridoi in questo momento è in un'unica aula con cinque postazioni. Postazioni nelle quali le funzioni si sono divise e ridotte assolutamente all'essenziale, ma nelle quali c'è un grande spirito di collaborazione, grande senso di responsabilità e grande desiderio di continuare. Per cui questa settimana abbiamo continuato a produrre quello che dovevamo produrre, senza fermarci, perché la vita in carcere non si ferma. Grazie. Volevo chiederti un'ultima cosa che già comunque traspare da quello che hai detto, perché tu sei un presidente, ma sei donna, e la donna interpreta anche in questi momenti di difficoltà in maniera diversa, e si vede, si sente questa diversità e questa maggiore aderenza alla realtà, questa vicinanza alle persone, come hai descritto te, questa che hai chiamato responsabilità. Qual è il ruolo delle donne per dare speranze anche in momenti così difficili? Credo che sia quello di procedere con la determinazione e la forza che deve essere, non può che essere connaturata quando si ha a che fare con la vita delle persone, che dipende, come dicevo prima, da un tratto di penna. E anche un'idea di speranza, sicuramente, che si accompagna ad un po' di creatività. Credo che questo sia bene dirlo, perché è un po' di fantasia, un adattamento materiale che è stato poi l'ideare come sistemare dei tavoli che erano destinati al servizio dei tirocinanti della Corte d'Appello e farlo diventare una cosa completamente diversa immediatamente, credo che fosse la risposta necessaria e credo che possa essere la strada giusta. Quindi quest'altra parola userei un po' di fantasia, ecco che si accompagna insomma alla determinazione che è giusto avere in questi casi. Grazie, grazie moltissimo. Questa ci rimarrà nel cuore, questa parola della creatività, d'altronde l'hai detto te stessa, il Tribunale di Sorveglianza da campo, questo non ce lo possiamo dimenticare, è vero? Sì, da campo, sì, da campo. L'ultima frontiera che hai detto, invece è la prima frontiera, la prima frontiera di questa rinascita. Grazie. Speriamo davvero, grazie, grazie. Grazie.